Nella notte di Capodanno una giovane ragazza rumena ha perso una gamba. L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte a Vittoria in via Roma all'incrocio con via Bixio. La giovane si trovava sul sedile posteriore di uno scooter condotto da un amico suo connazionale di 24 anni. Il mezzo si è schiantato contro una Ford Fiesta condotta da un vittoriese di 19 anni. Gravissime le conseguenze per la ragazza che è stata trasferita all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta a causa delle gravissime condizioni. Un forte trauma cranico, emorragie cerebrali. La ragazza nell'incidente ha perso la gamba ma è stata sottoposta ad intervento chirurgico anche per l'emorragia cerebrale. Si trova ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Un altro incidente si è verificato ieri mattina sulla strada statale 115 in direzione di Gela. si sono scontrati un autocarro Fiat M35 ed una Volkswagen Polo. Pare che l'incidente sia dovuto ad una mancata precedenza. Ferito, per fortuna e in maniera non grave, il conducente del camion, un uomo di 68 anni. Illesi gli occupanti dell'Apolo, due uomini e tre donne. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.